E se la Grecia non paga i suoi debiti, cari amici, vedete, questo è l'euro, sono 50 euro, sono 50 euro, io ricordo che tempo fa, tanto tempo fa, ho pubblicato un video dal titolo La bella moneta dei nostri sogni, e quel video lo rimetto qua dentro, è un video antico, di quelli spettacolari, ripeto, la bella moneta dei nostri sogni, sentite, sentite, carta speciale, 50 euro, non si scherza, e fatto sta che in calcio a un mio recente video, il mio caro amico di vecchia data, Berto, Berto 1999, che è un po' italiano, un po' tedesco, è un po' cosmopolita perché ha girato tutto il mondo, e mi informa che la Grecia non può pagare i suoi debiti, non si può pagare, non può pagare i suoi debiti, allora, allora vediamo un po', vediamo un po' quello che io vi posso dire in questo video, dunque, se l'Europa Unita è intelligente, diciamo, se la Germania è intelligente, perché economicamente parlando, l'Europa Unita si identifica con la Germania, la Germania, io la Germania attuale l'ho chiamata Quarto Reich, un Quarto Reich che si basa non sulla potenza militare, ma sulla potenza del denaro, perché col denaro tre compra tutto, c'è anche un mio video intitolato Dio denaro, se l'Europa Unita è intelligente, cioè se la Germania è intelligente, tu risolvi il problema del debito greco, del debito greco, semplice, definisce la questione dei cosiddetti danni di guerra, sì, sì, è vero che giuridicamente parlando, i danni di guerra della Germania sono stati azzerati con un certo accordo, perché la Germania letteralmente distrutta non poteva pagare niente e per tanti anni la Germania fu letteralmente distrutta, ce ne volle prima che si ricostruisse, quindi si decise, vabbè, chiudiamo, niente, la Germania non deve pagare più niente, però dopo la Germania è diventata il Quarto Reich, potente, per cui la Griscia lo ha riaperto il discorso dei danni di guerra causati dalla Germania alla Griscia e per me questa è una mossa importante della Griscia, una mossa importante della Griscia che non pagando potrebbe uscire dall'euro o spontaneamente ci esce o viene cacciata dall'euro e poi i danni si riprocotono sull'Europa Unita perché i creditori restano con un pugno di mosche in mano. Allora, non pagando la Griscia, dice, non c'è soldi per pagare i debili, è come se desse il là ad anche l'America e come gli è dai, chiudiamo la faccenda dei danni di guerra, no? No. Tu Germania ti fai carico del debito greco e noi della Griscia non pretendiamo più o nulla dalla Germania relativamente ai danni di guerra. Ecco qua, ecco qua cari amici, è quello che io vedo e prevedo, potenzi pure che mi sbagli, eh? Sinora non mi sono sbagliato mai, finora, finora non mi sono sbagliato mai perché questa è la mia ultima opera, vedete che adesso è stata tradotta in lingua inglese e sta in tutto il mondo, non mi sono mai sbagliato finora. Beh cari amici, io in calcio a questo video vi lascerò il messaggio informativo dell'amico Berto 1999 e vi lascerò pure il pregiato antico video intitolato La bella moneta dei nostri sogni. A tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.